Nella precedente lezione abbiamo imparato i metodi generali di C-Sharp, in questa scopriremo i principali metodi di default di Unity. Certo, ho detto i principali metodi, non tutti, questo perché gli altri li vedremo a tempo debito, ne sono una marea, e di fatti molti li scoprirete da soli all'occorrenza, chiedendo sul forum ufficiale di Unity o su Reddit. Vi consiglio vivamente di frequentarli. Ma prima di continuare vi invito a lasciare mi piace ed iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanellina così da non perdere nessuna lezione. Inoltre in descrizione trovate il link per seguire la playlist completa di queste lezioni ed il codice sorgente degli script sul mio TIP sbloccabili dal livello 1. La prima cosa da sapere è che tutti questi metodi sono privati ed iniziano a funzionare quando il GameObject a cui sono collegati tramite lo script è abilitato in scena. Inoltre, in questa lezione, li ordino in ordine di chiamata. Difatti, ognuno ha un contesto speciale per essere richiamato. Il primo metodo ad essere chiamato è l'awake. Questo metodo viene chiamato sempre prima di tutti e sarà chiamato solamente una singola volta, anche se il GameObject viene abilitato e disabilitato più volte nella scena. Il secondo metodo ad essere chiamato è l'on enable. Questo metodo è chiamato nel momento in cui il GameObject viene abilitato nella scena. Se questo viene abilitato e disabilitato più volte, questo metodo verrà chiamato ogni singola volta che l'oggetto viene riabilitato. Il terzo metodo ad essere chiamato è lo start. Questo metodo viene chiamato dopo l'awake ed il primo on enable. Come l'awake viene chiamato una singola volta. Poi troviamo i metodi ciclici, ovvero quei metodi che vengono richiamati continuamente, fin quando il GameObject è abilitato in scena. Questi sono FixedUpdate, Update e LateUpdate. Il FixedUpdate viene chiamato ogni 2 millisecondi, quindi 50 volte al secondo. Questo metodo è utile per i calcoli fisici, come ad esempio muovere un personaggio nel mondo di gioco. L'update viene chiamato ogni frame, quindi tante volte quanto sono gli FPS. Se il videogioco va a 30 FPS, allora questo metodo verrà chiamato 30 volte al secondo. Se invece va a 60 FPS, verrà chiamato 60 volte al secondo e così via. Non va assolutamente bene richiamare i movimenti fisici come muovere il personaggio in questo metodo. Questo perché in una console come la PlayStation magari si avrà un blocco a 60 FPS. Al computer invece si raggiungeranno 90 FPS, se non oltre. Questo farà sì che chi gioca al PC avrà un personaggio più veloce, chi gioca da PlayStation invece avrà un personaggio più lento. Tra i metodi ciclici, alla fine abbiamo il LateUpdate. Questo funziona esattamente come l'update, ma viene chiamato alla fine del frame, quindi un istante dopo l'update. Tale istante è impercettibile per gli esseri umani. Questo metodo è utile ad esempio per le telecamere che si devono spostare seguendo GameObject che si stanno spostando, oppure reazioni come un pop-up. Prima di continuare, una piccola nota. Il FixedUpdate viene chiamato prima dell'update se gli oggetti sono già in scena al momento del play. Può succedere che per oggetti non abilitati all'inizio, il FixedUpdate venga chiamato dopo l'update, dato che potremmo non trovarci nei 2 millisecondi di chiamata. Continuando, troviamo il metodo onDisable, che è praticamente l'opposto dell'onEnable, mentre l'onEnable viene chiamato quando si attiva l'oggetto in scena, l'onDisable quando si disattiva. Infine troviamo l'onDestroy. Come suggerisce il nome, questo metodo viene chiamato non appena l'oggetto viene distrutto in scena. Salvo quanto ho scritto e mi sposto su Unity. Andiamo in play e leggiamo la console. Il primo ad essere chiamato è l'awake, seguito dall'onEnable e poi lo start. Poi ci sono gli altri 3 metodi, quelli ciclici, FixedUpdate, Update ed infine LateUpdate. Potete vedere alla destra della stampa il numero di volte che questi metodi sono stati richiamati. L'onDisable e l'onDestroy non sono stati richiamati, per il momento. Difatti spostiamoci nell'inspector del GameObjectCube e di fianco al nome troviamo una casella spuntata. Quella casella indica che l'oggetto è abilitato in scena. Clicchiamo per togliere la spunta. Notiamo subito nella console come i metodi ciclici FixedUpdate, Update ed LateUpdate si sono fermati, non vengono più richiamati. Ma in compenso c'è il richiamo dell'onDisable, proprio perché abbiamo disabilitato il GameObject. Difatti questo non è più presente in scena. Inoltre, nella Hierarchy, il nome Cube è in grigio scuro. Riabilitiamo il GameObject, quindi spuntando nuovamente la casella nell'inspector, e possiamo notare come nella Hierarchy il nome torna chiaro. Nella scena il GameObject è visibile e nella console i metodi ciclici hanno ripreso a funzionare. Inoltre, troviamo una nuova chiamata del OnEnable. Questa chiamata la ritroviamo in fondo alla console come una nuova chiamata. Questo perché è passato molto tempo dall'orario della sua prima chiamata e quindi Unity fa una nuova stampa e non richiama quella di prima. Difatti, se abilitiamo e disabilitiamo consecutivamente questo GameObject in tempi brevi, OnEnable e OnDisable vengono richiamati nella stessa stampa. Ma più che a questo particolare totalmente inutile e solo visivo in console, dobbiamo notare che l'Awake e Start sono stati richiamati solo la prima volta e poi basta, nonostante l'oggetto è apperso in scena più volte. Spostiamoci infine nella Hierarchy e sul GameObject facciamo tasto destro del mouse, clic su Delete. Qui viene richiamato l'OnDestroy e l'oggetto viene eliminato dalla scena. Notiamo però che il momento prima di richiamare l'OnDestroy il GameObject richiama un ultimo OnDisable. Per vedere questo passaggio al meglio usciamo dal Play e rientriamo. Ora l'OnDisable non è stato chiamato, ma eliminando il GameObject questo viene richiamato un attimo prima dell'OnDestroy in automatico. Faccio notare un ultimo particolare. Uscendo e rientrando in Play, ora senza distruggere o disabilitare nulla, esco dal Play. Potete vedere come vengono richiamati ugualmente i metodi OnDisable e OnDestroy. Questo non comporta nulla, è semplicemente Unity che resetta il suo sistema. Difatti, nonostante abbiamo distrutto più volte il GameObject, appena uscivamo dal Play questo riappariva. Tutto va a collegarsi e confermare quanto detto sulla lezione dei GameObject. Tutte le modifiche fatte durante il Play vanno perse appena si esce dal Play. I codici sorgenti di questa lezione sono disponibili sul mio TIP, dal livello 1 in poi, link in descrizione. Grazie per aver guardato il video, lasciate un like se la lezione vi è piaciuta ed iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate la campanellina così da non perdere nessuna lezione.